Avete mai pensato come sarebbe se la vita cominciasse dalla fine? Non mi costringete a mettere le inferriate alle finestre, eh? Non avete più trent'anni. Marco, cardiopatia congenite. Maurizio. Ecco, qua, fatto. L'ultima elezione, l'ho avuta che ancora c'era la lira. Prendete l'apertura, no? È cinese. Andiamo già messo a dieci minuti. Marco. Con trent'anni di meno. Ma che se è la pillola che mi hai dato tu? Io non mi divertivo così dal 92, oh? Da quando con Adevina andammo in settimana bianca a perra di fassa. La botta di vita, Rosa. Ma come che è scomparso? Ce lo siamo perso. Ma perso? Uno perde l'orecchino, uno strapone, una cintura. Ma non un uomo, un sessantenne. Macchinone. Ma si muove? Lui ci ferma più nel dunio! Io non sono mai stato meglio in vita mia. Lei è Stella, la mia fidanzata. Perché siete tre? Te la fa spiegare? Ma a figura, diciamo. Abbiamo gli stessi gusti, eh. La brevettiamo e la vendiamo al migliore offerente. Ma tu sei sicuro che te stanotte non... No, perché sono confuso. Dolorio Pum. No! Se tu oggi potessi, per magia, avere di nuovo 30 anni, cosa faresti? Ma te... come te chiami? Mi chiamo Serena, con l'uccello di cognome. Con l'uccello. Potevo fare commercialista? Eh no, no. No, no. No. Grazie a tutti.